no dai oh te devi muovere a te mi resta di là perchè qua c'è un'ospedale dove sono qua lì? sono in mezza dai può essere la rossa ma chiama la palazza io mi devo riuscire a stare non c'è il problema non c'è un'espedale nadia mi pianta mi pinta non c'è un bambino mentre con questo non c'è un bambino non è un bambino